Contro l'oblio, la festa della speranza, nel porto di Acciaroli, la fondazione Angelo Vassallo ha ricordato il sindaco pescatore. Quel 5 settembre del 2010 venne sparato nove volte Angelo Vassallo. Era una calda serata di fine estate, nessuno sentì gli spari, nessuno trovò quella fatale BB Tanfoglio calibro 9, nessuno ha pagato. Solo la famiglia che ancora attende quella verità negata, raccontata e ripercorsa nell'omonimo libro scritto dal fratello Dario e Vincenzo Iurillo. Gli autori di quel delitto sono ancora ignoti, anche se la magistratura ha ipotizzato che a volerne la morte possa essere stata la camorra proprio per il suo impegno a difesa della natura e del territorio, incompatibile con gli interessi della criminalità organizzata. Un delitto impunito sul quale indagano gli inquirenti della Procura della Repubblica di Salerno e la Commissione parlamentare antimafia. Alla festa della speranza una serie di iniziative, tra cui la deposizione di una corona in mare e poi una serie di frasi dedicate al sindaco pescatore. Sai, i gabbiani continuano a dormire nello stesso posto. Ciao Angelo, si dice che il tempo allevia il dolore e ci aiuti a comprendere. Sei stato sempre una splendida eccezione e purtroppo lo sei anche in questo. Il tempo, con la tua assenza, ha solo trasformato la speranza in amarezza e chi aveva il dovere di comprendere è stato incapace. Forse qualcuno ha raccontato la storia sbagliata, il ricordo del sindaco di Pollica. Stefano Pisani, serata intensa dunque quella di ieri sera, ha detto l'ex segretario di Vassallo Gerardo Spira, ricca di emozioni per le risposte dei ragazzi che hanno partecipato alla festa della speranza, al concorso dedicato ad Angelo Vassallo. Tanti i lavori, le poesie e i racconti che hanno presentato, una generazione nuova di grande speranza, i giovani hanno capito il messaggio del sindaco pescatore, hanno capito che il loro futuro non si tocca perché loro sono gli attori e i destinatari. Grazie a Fausta Altavilla, continua Spira, ad Alessandro Cannavale e alla Commissione tutta per il grande significato del loro impegno.